Il programma che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conosce il proprio assenso, se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare. L'ordine del giorno prevede l'audizione del generale di visione Luca Valeriani, che ringraziamo al generale e tutti voi di essere qui, la Commissione aveva espresso la volontà di potervi conoscere di persona e magari poter ascoltarvi come presentazione perché non avete una non conoscenza tecnica dei ruoli dove andate ad occupare. Quindi cedo la parola al generale Valeriani. Signori Senatori, nel ringraziarvi per l'attenzione che vorrete dedicare a questa mia presentazione, leggo per essere più sintetico ed evitare tempi morti. Devo esprimere la mia profonda gratitudine per la stima e la fiducia in me riposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel designarmi per questo prestigioso e impegnativo incarico che mi raggiunge in maniera, ammetto, inaspettata dopo diversi anni dal ritiro dalla mia vita professionale in aeronautica militare. Il mio curriculum vite, infatti, dimostra che ho servito per 41 anni nella Forza Armata, ricoprendo numerosi incarichi, fra i quali tuttavia spicca per qualità e quantità di anni ad essa dedicati l'ambito della sicurezza volo, in cui ho svolto tutte le funzioni, dal livello iniziale di caposezione investigazione a quello di ispettore per la sicurezza del volo. In queste funzioni ho maturato una profonda passione per le tematiche che vanno dall'investigazione degli incidenti ed inconvenienti di volo alle tematiche e metodologie in continuo aggiornamento per la prevenzione dei suddetti eventi, convinto ora, come allora, che se l'attività di volo sia professionale, sia ludico-sportiva è una delle conquiste della nostra civiltà, esiste una necessità, direi, etica di renderla sicura ed affidabile. Questo concetto di necessità non è certo una mia esclusiva, ma fa parte del patrimonio culturale del mondo dell'aviazione, che infatti nel corso della sua poco più che centenaria vita ha sviluppato tecniche e approcci culturali frutto sia delle esperienze tratte dagli incidenti, sia da un ammirevole ed esemplare lavoro di studio che ha coinvolto le più varie discipline del sapere, dall'ingegneria alla sociologia, dal diritto alla filosofia, alle neuroscienze, con il risultato che da tempo ormai statisticamente il trasporto aereo è il mezzo più sicuro per movimentare persone e materiali. Ciò non toglie che eventi negativi come incidenti o gli inconvenienti di volo, chiamati quest'ultimo in maniera più efficace, mancati incidenti, capitino e vadano approfonditamente investigati proprio per portare ad accertarne le cause anche le più remote utilizzando gli strumenti che la tecnologia e l'esperienza professionale degli investigatori aeronautici offrono. Va rilevato infatti che se i risultati raggiunti sono stati enormi, questo è dovuto proprio a quell'attività di continua innovazione e ricerca basata sul non essere mai soddisfatti dei risultati raggiunti. Perché se l'obiettivo zero incidenti era considerato velleitario dei non addetti ai lavori è invece proprio quell'obiettivo che gli operatori che si occupano di sicurezza a volo intendono perseguire. Venendo quindi all'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo, per cui sono qui oggi, ne ho seguito il percorso nell'ambito degli incarichi che ho ricoperto in aeronautica militare fin dalla sua nascita nel 1999, constatando nei rapidi progressi grazie alla Corte appassionata opera del suo Presidente e del personale ad essa assegnato, diventando oggi una realtà conosciuta e apprezzata anche a livello internazionale ed in grado di soddisfare quanto richiesto dai documenti vincolanti al riguardo, quali l'annesso 13 del ICAO ed il regolamento UE 996 del 2010. Le linee guida attuali, mi permetto di dire future, sono ben individuate e si basano sul concetto di investigare per prevenire, sia nell'ambito degli incidenti che degli inconvenienti di volo. L'investigazione così concepita per essere efficace deve rispondere al criterio della Just Culture, dove in modo sintetico si intende un approccio culturale teso ad individuare le cause senza cercare le colpe, attività che appartiene quest'ultima alla magistratura laddove intervenga. Bisogna considerare infatti che un grande numero di inconvenienti di volo vengono segnalati se viene rimosso il potenziale rischio della colpa o del discredito. In caso contrario, una sorgente preziosa di eventi che potrebbero essere utili per investigarne le cause e trarre raccomandazioni di sicurezza a beneficio di tutto il mondo dell'aviazione resterebbero confinati alla memoria del singolo o dei singoli operatori. Il lavoro di questi anni, basato sul regolamento UE 996 del 2010, ha portato quindi ad un equilibrato rapporto fra chi investiga per prevenire eventi analoghi e attività giurisdizionale, per cui le esigenze di prevenzione non sono più subalterne a quelle di giustizia, ma sono sullo stesso piano, come riporta fra l'altro nel suo rapporto annuale del 2022 l'ANSV stessa. Con queste premesse, il mio impegno sarà di continuare sul percorso di crescita dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo, garantendone la presenza e possibilmente l'incremento di personale da impiegare nell'investigazione e nel mantenimento ed aggiornamento costante dei laboratori per la decodifica dei registratori dei dati di volo e del relativo personale tecnico, che sono oggi un punto di forza dell'Agenzia. Mi si è infine consentito, e qui concludo, esprimere in questa sede la mia stima e gratitudine per lo straordinario lavoro svolto negli anni dal precedente Presidente ed attuale Commissario straordinario, Professor Bruno Franchi, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Con questo ho concluso e sono a disposizione per eventuali vostri acquisiti. Grazie, generale. Ascoltiamo prima un po' la presentazione di tutti e poi vediamo se i colleghi o qualche collega ha interesse di fare qualche domanda specifica. Quindi cedo la parola adesso al dottor Costantino Fiorillo. Prego. Grazie, signor Presidente. Innanzitutto il mio saluto deferente al Presidente e ai componenti della Commissione. Mi associo a quello che diceva il generale Valeriani, perché il Presidente del Consiglio dei Ministri ci ha onorato di questa disegnazione in maniera parimenti inaspettata per quanto mi riguarda. Io mi occupo di trasporto aereo dal 2021 come direttore regionale per aeroporti, trasporto aereo e servizi satellitari al Ministero dei Trasporti. Durante questo incarico che è stato preceduto da una competenza sia per quanto attiene ai servizi satellitari sia per quanto attiene ai mezzi a pilotaggio remoto che vedremo per quanto attiene alla sicurezza del volo hanno un ruolo ormai crescente. Ho verificato l'importanza di garantire le situazioni di sicurezza del volo in tutte le varie implicazioni e quindi il ruolo che attualmente ricopre, il ruolo istituzionale che ricopre l'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo però sia un ruolo, come giustamente diceva il generale Valeriani, non di giustizia ma di accertamento di quelle che sono le cause per evitare che in prosieguo si abbiano a verificare accadimenti di patologia del sistema di volo, è un ruolo particolarmente importante. Un ruolo particolarmente importante anche perché, come accennavo prima, noi abbiamo l'universo mondo dell'aviazione civile in quanto tale, l'aviazione generale ma abbiamo delle aperture tecnologiche di estremi interessi, abbiamo i mezzi a pilotaggio remoto che ormai pervadono la quotidianità, prima commentavamo con il generale e con i colleghi l'uso che si fa in maniera quasi quotidiana da cerimonie pubbliche a manifestazioni, da matrimoni e quant'altro di mezzi a pilotaggio remoto, ecco si tratta di un universo mondo che comporta però una attenzione a quelli che sono i profili di sicurezza, perché se è facile comprare un mezzo a pilotaggio remoto e è relativamente facile usarlo, non altrettanto facile usarlo con la dovuta accortezza evitando col, si voglia, tipo di pericolo, non dico di incidente ma sicuramente di pericolo. E questo è uno scenario che si va aprendo attraverso le prospettive di advanced mobility di cui si parla, i vertiporti, abbiamo sentito quello che hanno in programma importanti aeroporti nazionali, eccetera. Quindi un universo sul quale credo l'NSV sarà chiamata a dare e ad esprimere un talento non marginale per far sì che la prevenzione degli incidenti e delle anomalie gravi che possono portare ad incidenti che poi il ruolo istituzionale e il ruolo moralmente più qualificante dell'NSV si possa declinare con la massima attenzione e pervasività. Mi taccio per non togliere tempo ai colleghi ma certamente mi unisco al saluto e al ringraziamento al professor Muno Franchi che è stato un po' il fondatore dell'NSV e l'ha guidata per molti anni rendendola quella che organismi internazionali di certificazione hanno anche recentemente dichiarato un organismo investigativo di eccellente livello, tant'è che anche dall'estero frequentemente le istituzioni europee si avvalgono dell'NSV per attività investigative, soprattutto per quanto attiene all'analisi di tipo tecnologico. Con questo mi taccio e resta tutta l'azione. Grazie per la sinteticità e per l'esposizione molto comprensibile di quello che ha fatto e quello che intende fare. Passiamo adesso la parola al generale di visione aerea Antonio Maurizio Agrusti in ausiliaria. Buongiorno Presidente, buongiorno Senatori, grazie per l'opportunità che mi sarà data. Cercherò anch'io di essere sintetico come il dottor Fiorillo per dire solamente che mi accomuna al generale Valeriani l'esperienza ultra quarantennale per quanto mi riguarda. l'aeronautica militare che mi ha portato a vivere delle esperienze uniche. Io sono un piloto, ero un piloto operativo, mi piace ancora pensare di esserlo. Quello che ho imparato in tutti questi anni e grazie anche all'opportunità che ho avuto di lavorare all'estero, in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, quindi con colleghi che le cui aeronautiche sono molto simili dal punto di vista concettuale, non come dimensioni, ma sicuramente come approccio alla parte operativa. E prima di tutto che la sicurezza volo non deve essere un ostacolo all'operatività, anzi deve essere uno strumento che amplifica i margini di sicurezza entro i quali poter condurre la propria attività nella maniera più sicura possibile. Grazie anche al quotidiano interfacciarsi con i colleghi stranieri, ho imparato che veramente in quegli ambiti lavorando insieme si può crescere, soprattutto perché non ci sono timori a scambiarsi idee dal punto di vista sia operativo ma anche concettuale nella maniera più franca possibile. Mi unisco anche al generale Valeriani per quanto riguarda il mio sposare, la causa della jazz culture che nel corso degli anni ha avuto un'evoluzione veramente notevole. Per quanto riguarda la nostra aeronautica sicuramente, io ricordo che quando io ho cominciato a volare nel 1981 il numero di incidenti o chiamiamo di inconvenienti che si manifestavano era sicuramente inferiore a quello che poi di fatto succedeva sul campo, senza ovviamente nessuna conseguenza, ma solo per dire che la jazz culture nel corso degli anni ha contribuito a diminuire quel senso di oppressione che magari il singolo operatore aveva nel poter riportare quello che gli era capitato e quindi contribuire anche a una diffusione maggiore del concetto della cultura del giusto nell'ambito della sicurezza volo. Ecco, in questo ambito io nell'incarico che ho avuto sempre nella sicurezza del volo della aeronautica militare, mi sono interfacciato quasi quotidianamente con l'Agenzia nazionale di sicurezza volo, sia nell'ambito investigativo sia nell'ambito di scambio di idee e di messa in pratica di alcune pratiche quotidiane appunto per svolgere il nostro lavoro in maniera più efficiente. Devo dire che il professor Bruno Franchi, mi unisco anch'io al plauso, ha fatto veramente un lavoro eccellente. Devo dire che da questo punto di vista io ho imparato il lavoro che l'ANSV ha svolto nel corso degli anni e che si avvolge tuttora e sono ansioso di poter dare anche il mio piccolo contributo nell'opera dell'Agenzia a supporto dell'azione del Presidente. Io ho terminato e rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie Generale. Ci diamo adesso la parola alla professoressa Avvocato Anna Manzutti. Grazie Presidente e grazie anche agli onorevoli senatori. Anch'io sono molto lieta di essere qui. Vi ringrazio della vostra attenzione. Io sono un docente, un professore ordinario dell'Università di Bologna dove insegno proprio questa materia, diritto della navigazione aerea e l'ho insegnata per tanti anni alla Facoltà di Ingegneria Aerospaziale, sempre a Bologna. E questo mi ha portato come Generale Valeriani a seguire i primi passi dell'Agenzia per la sicurezza del volo fin dalla sua Costituzione. Tant'è che il Presidente, il Professor Franchi, era ed è un collega e assieme abbiamo partecipato a varie iniziative proprio per introdurre un approccio diverso rispetto al passato e a distanza di dieci anni poi consacrato in un regolamento europeo che è quello che le investigazioni che sono svolte dall'Agenzia hanno un fine preventivo, proprio quello di evitare e di prevenire degli incidenti aeronautici e non investigativi con la finalità di ravvisare delle colpe o delle responsabilità penali dato che questo è un compito che spetta alla magistratura. L'Agenzia è stata costituita naturalmente e anche l'Italia a questo punto si è allineata a quella che è la normativa internazionale perché l'International Civilization Organization ha previsto l'istituzione di questa agenzia e quindi le regole nazionali dall'epoca ad ora sono all'avanguardia ma armonizzate con quello che è il regime internazionale sulla sicurezza e poi a riguardo insomma sulla sicurezza sulla sicurezza del volo. Sempre in questo percorso negli anni 2000 in quanto membro del comitato tecnico giuridico dell'ente nazionale per l'agrazione civile ho seguito una regolamentazione che è stata a suo tempo adottata intorno alla metà degli anni 2000 che ha portato l'aviazione a seguire una procedura che porta e obbliga diciamo gli operatori a segnalare quando ci sono degli inconvenienti aeronautici. Perché c'è voluto una normativa? Perché nel nostro codice penale c'è una norma che stabilisce che laddove ci sia un mero pericolo di incidente aeronautico, ancora che questo non si verifichi, l'azione penale viene iniziata ad ufficio e quindi una persona può essere perseguita. Con questo meccanismo che è stato introdotto e questa regolamentazione che vede delle procedure tecniche si è previsto che la segnalazione può essere data senza che colui che invia la segnalazione debba essere perseguito per l'inconveniente che segnala, che ha l'unica finalità di dare delle informazioni alle autorità aeronautiche per evitare che si possa verificare nuovamente questo incidente. Perché le segnalazioni che vengono raccolte anche dall'Agenzia Sicurezza del Volo hanno come destinata l'autorità di aviazione civile che hanno il potere di intervenire e di introdurre o delle procedure o delle specifiche tecniche per il miglioramento dell'aviazione civile. Quindi direi che questa è un po' l'esperienza che io ho maturato nel corso di un lungo periodo di attività accademica e di ricerca anche con le istituzioni comunitarie, sempre nel settore dell'aviazione e con specifico riguardo poi alla sicurezza e al tema della just culture che è un tema molto sentito ed importante. Mi rendo anch'io disponibile per eventuali domande e ringrazio dell'attenzione. Grazie, grazie a tutti per ciò che ci avete detto, avete dimostrato la vostra conoscenza nel settore, la professionalità rispetto al ruolo che dovete andare a ricoprire per tutti quanti noi, perché poi la sicurezza aerea è qualcosa che riguarda tutto, è un sistema che è integrato in un sistema internazionale, c'è il problema che avrà nei prossimi mesi e anni, quello di una regolamentazione rispetto ai droni e ai trasporti dei droni che alcuni stati già stanno facendo, ma proprio per questo dove non c'è sicurezza hanno deciso di iniziare in luoghi dove possono atterrare i libri ai campani, quindi è qualcosa di importante che è il futuro e che necessita di una grande attenzione, soprattutto di tecnici, per poter consentire poi al Parlamento di fare quelle norme che consentono un miglior funzionamento del sistema. Ha chiesto di parlare la collega senatrice di Girolamo a cui c'è la parola. Grazie Presidente, la ringrazio anche per aver accolto la mia richiesta di ricevere un'audizione ai soggetti, chiaramente i curriculum li abbiamo letti la scorsa settimana, oggi abbiamo un modo di riscontrare effettivamente le qualifiche riportate in quei foglietti che c'erano stati condivisi nella scorsa settimana. Io avrei da fare una domanda specifica che mi permetterà eventualmente, la risposta positiva negativa, mi permetterà di fare un'osservazione. La vostra competenza spazierà anche su quella che è tutta la sicurezza e dinamica incidentale anche dei voli sportivi da diporto? Ci sono dei limiti di dimensioni, diciamo peso dei velivoli che sono oggetto di investigazione in caso di incidente. Cioè non toglie che esiste, è ormai consolidata, proprio dall'Agenzia di sicurezza del volo nel corso degli anni, la possibilità di intervenire anche in casi di velivoli dimensioni più piccole, qualora l'incidente sia di particolare rilevanza o sia particolarmente utile investigare ai fini proprio di quella prevenzione generale che ci riguarda. Vale anche il contrario, in alcuni casi, nei casi dell'avviazione del porto sportiva, si può, qualora eventi inconvenienti gravi si ritengono non particolarmente utili, bisogna fare anche una valutazione, un rapporto di costa efficacia, gli investigatori assegnati sono pochi, quindi bisogna dedicare le risorse agli obiettivi ottimali da raggiungere, quindi investigazioni che possano poi essere utili per proiettare raccomandazioni o azioni utili per la sicurezza complessiva. Quindi c'è un certo margine, però diciamo la regola base è che al di sotto di un certo peso non si interviene. C'è anche il dottor Fiorillo che vuole aggiungere qualcosa, prego. Solo una battuta velocissima, ringraziando la senatrice perché ha toccato un tasto che è certamente significativo, perché il volo da riporto sportivo sta diventando, ormai è, da qualche anno, anche a livello tecnologico, un settore molto avanzato. Quindi è chiaro che avviare una riflessione, come giustamente diceva il generale Valeriani, rapporto costi-benefici, facoltà di aprire o non aprire un'inchiesta, eccetera, andrà fatto con una contestuale valutazione di quello che tecnologicamente questo settore sta ormai diventando e quello che prospetticamente può diventare. Anche perché, considerando quello che è il panorama internazionale, vediamo che il volo da riporto sportivo ha, in stati come la Francia ad esempio, una realtà operativa che è assolutamente significativa. E quindi credo che l'NSV, come diceva il generale, dovrà fare delle valutazioni attente, ma è un settore da monitorare, seguire con ponderatezza e attenzione. Assolutamente sì. Sì, vi ringrazio perché chiaramente la mia considerazione era volta proprio a dare maggiore attenzione su quest'ambito, non ho le statistiche in mano, però i rapporti giornalistici parlano di un elevato numero di incidentalità che appunto è sempre in espansione, per cui vi ringrazio e insomma sollecito l'attenzione su questo tema che sicuramente da parte vostra saprà essere chiaramente adeguata. In tal senso colgo perfettamente, questo è un po' diciamo, per chi lavora nel nostro mondo, è un cruccio che ci tocca, quello di vedere un numero significativamente elevato di incidenti di quest'ambito. Posso dire che in corso da tempo e per quanto riguarderà noi come agenzia lo manterremo se non miglioreremo, un'attività di acculturazione, chiamala così, rapporti nell'ambito delle scuole di volo, aeroclub, le piccole realtà che sono anche in piccoli aeroporti, aviosuperficie addirittura. Quindi ci sono contatti per creare un clima di conoscenza, di competenza e di attenzione secondo almeno i parametri della sicurezza volo. So che questo viene fatto, perché l'ho visto fare, l'ho fatto in ambito aeronautica militare dove le piccoli aeroporti vicine, le più grosse basi periodicamente ricevono briefing, illustrativi, è stato fatto dall'agenzia sicurezza volo, so di precedenti in cui ci sono state relazioni, conferenze. Quindi diciamo questo è un ambito dove c'è da far crescere molto la cultura. Cioè in alcuni ambiti ancora esiste chi gestisce il proprio aereo come la propria autovettura, ecco, è un po' più complesso. Se c'è il maltempo non si accosta e si aspetta, quindi ecco c'è da lavorare molto e quindi colgo questa sua attenzione, che è un nostro sicuramente pensiero rilevante. Grazie, se non ci sono altre domande vi chiedo di essere liberi. Noi procediamo al nostro lavoro, vi ringraziamo di ciò che ci avete portato rispetto a ciò che ci avete detto e per dimostrare la vostra conoscenza e professionalità. Grazie. 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 Grazie.